Le attività promosse dal comitato per l'anniversario dei 500 anni della chiesa di Madonna di Campania stanno entrando nel vivo? Sempre di più. L'anniversario sarà nel 2027, ci stiamo avvicinando, sembrano tanti tre anni e mezzo ma il tempo poi corre e quindi dopo varie cose siamo riusciti a partire e adesso stiamo mettendo in piedi le varie realtà, il progetto di restauro, il progetto di attenzione verso i giovani, di coinvolgimento un po' di questa componente più nuova della nostra comunità. È stato elaborato uno specifico progetto didattico che si articolerà nell'arco di un triennio che coinvolge scuole di ogni ordine e grado. Sì, già da un anno circa siamo in contatto noi del comitato che si è creato a Madonna di Campania con l'ufficio scolastico e le referenti con le quali è stata approntata questa idea di progetto che potesse coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado della città. Quindi a partire dai bambini più piccoli, la scuola dell'infanzia per arrivare alle classi dei licei, delle scuole superiori. Queste attività saranno molto laboratoriali, legate a varie sfaccettature relative alla cultura generale, all'arte, all'architettura, allo studio della storia del territorio, allo studio della memoria anche del territorio della città e il tutto verrà collegato a un progetto pensato in funzione del turismo e quindi ai ragazzi sarà chiesto poi di produrre del materiale che possa essere utilizzato appunto in ambito turistico a livello cittadino.